E' un'ambasciatore E' un'ambasciatore di Francia e devo dire che siamo molto felici di accogliere oggi un pubblico numeroso per visitare il Palazzo Farnese per queste giornate europee del patrimonio. Quest'anno è un anno speciale perché per la prima volta apriamo la Scuola Francese di Roma con la sua splendida biblioteca di più di 300.000 volumi. E' un momento quindi molto speciale dove tutti gli elementi di Palazzo Farnese sono visibili e veramente auguro a tutti una visita splendida. Quest'anno per la prima volta da molto tempo l'ECOR riprende ad essere aperta per le giornate del patrimonio europeo. Alla fortuna di essere ospitata al secondo piano di Palazzo Farnese con una biblioteca grandissima e bellissima che siamo felici di aprire al pubblico quest'oggi. Sono 35 anni che aspetto questo momento. C'è la prima volta che io vengo al Palazzo Farnese con una grande gioia. Quindi ho avuto l'occasione delle giornate del patrimonio per venire specialmente a Parisi. Unicamente questa settimana. No, 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 spero che ne faranno tantissime ancora. Sono molto felici, ho un'impressione immensa, affascinante. La Galleria dei Carracci arriva di volentieri. Sinon via il sito internet, vi faccio vedere. Grazie a tutti.